Buongiorno ragazze, oggi vi vorrei presentare uno styling di Retken Express Primer è uno spray termoattivo, va vaporizzato ovviamente sul nostro cappello lavato e tamponato quindi vaporizzato su tutte le lunghezze a una distanza circa di 20 cm più o meno è ideale per tutti quei tipi di cappelli danneggiati, crespi quindi quei capelli dove comunque hanno bisogno di essere domati un pochino danneggiati perché? Abbiamo spesso un capello che comunque tende a rovinarsi, a spezzarsi questo è un prodotto, come vi dicevo, termoattivo quindi noi lo vaporizziamo sui nostri capelli asciughiamo e se anche utilizziamo un phon, piastre, babyliss comunque questo prodotto ci aiuta a prevenire tutto ciò che è rottura o opacizzazione del nostro capello quindi lo possiamo utilizzare tranquillamente la bellezza di questo prodotto è che ci dà anche comunque una completa leggerezza nel nostro capello comunque quando lo finiamo di phonare lo vediamo molto leggero ed essendo in spray è ideale appunto quel capello fine dove comunque non abbiamo bisogno o non dobbiamo rischiare di appesantirlo quindi ragazzi lo usiamo tranquillamente, phoniamo e ecco qua grazie mille grazie mille grazie mille